Politicamente oggi io non mi fido di Beppe Grillo e Beppe Grillo ancora, in parte, fa da padre padrone e io sotto Grillo non ci sto. Facendo però una premessa, io non dimentico quello che Grillo ha fatto per il paese e anche per me. Perché se sono la persona che sono e credo di aver imparato determinati valori, è perché me le ha insegnate anche Beppe Grillo e me le ha insegnate Gianroberto Casaleggio. Io ho appreso molto da loro e sono grato al Movimento e grato a Beppe Grillo e super grato a Gianroberto Casaleggio. Guardate che Beppe Grillo, lo dico ai detrattori, ci ha rimesso una valanga di soldi con il Movimento 5 Stelle, nonché tranquillità personale. E non l'ha fatto il Movimento con secondi fini, per niente. L'ha fatto esclusivamente con un fine altruista, con un fine vero, sincero, di voler cambiare il paese, di poter far sì che questo paese potesse essere migliore, più pulito sotto tutti i sensi. Io veramente questo lo penso e non me lo dimenticherò mai. Io il passato non me lo dimenticherò mai. Non mi posso neanche permettere di dimenticare il passato recente, determinati sbagli che sono stati fatti, quell'aver mandato a quel paese, a Napoli, tutti quegli attivisti che erano molto scettici sull'alleanza strutturale con il Partito Democratico. Ricorderete, a Napoli, andate anche voi a quel paese, voi che parlate sempre del Partito Democratico, che chi aveva ragione? Beppe Grillo a mandargli a quel paese o gli attivisti ad aver timore? Io ecco, in questo momento, sapendo che ci sono alcune mie posizioni che non sono le stesse del Movimento 5 Stelle, sapendo che molte componenti del Movimento 5 Stelle non mi vogliono, qualcuno pensa soltanto che io gli serva, non che appunto non mi vogliono, gli servo. Sapendo che Beppe Grillo ancora fa da padre padrone, e io ripeto, sotto Grillo non ci sto, perché in questo momento politicamente, parlo soltanto politicamente, io di Grillo non mi fido.